Siamo in compagnia della dottoressa Olimpia Gobbi. Il suo intervento si intitola Giovani Rurali o Giovani Urbani. Che cosa significa? Significa che i giovani, cioè il futuro, debbono in qualche modo decidere se stare dalla parte della città o dalla parte della campagna. In realtà il titolo è provocatorio. Nelle Marche e un po' ovunque, ma in maniera particolare nelle Marche, non si sta né da una parte né dall'altra. Si sta a valorizzare i luoghi e i luoghi trovano appunto in questo intreccio di ruralità e dimensione urbana la loro specificità. La campagna non è residuale. La campagna porta, veicola, comunica la qualità di questo territorio. Dunque il futuro sta dalla parte della qualità e quindi dalla parte del locale.